Prima di cominciare il video, volevo ringraziare uno dei miei iscritti, barra follower, visto che mi segue anche su Twitch, per avermi ispirato per questa build che lui stesso ha richiesto abbastanza moderatamente, e niente, volevo solo ringraziarlo e speriamo ovviamente che sia anche più o meno di suo gradimento. Forse non è proprio ugualissima a come me la fece vedere, ma nel caso salutiamo il signor Gigi. Salve a tutti Eldivers, e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Anonimo, e oggi voglio presentarvi una nuovissima build, o comunque un nuovo setup, da Juggernaut, come da voi richiesto. Inoltre, vi raccomando di iscrivervi al canale, mettere like, e ovviamente di condividere e seguimi negli altri link. E aspettatevi un gameplay su questa build, tipo l'ultimo gameplay che ho fatto, abbastanza simile, che vi raccomando di andare a vedere se non l'avete ancora fatto, visto che avete votato su YouTube, e quindi mi sembra giusto portarlo abbastanza in fretta. Detto ciò, però, possiamo procedere con la nostra build, e andiamo subito nei dettagli. Per cominciare con le armi primarie, ovviamente, essendo che avremo lo scudo antisommossa in questa build, dovremo avere per forza armi a una mano, quindi comprende quasi tutte le SMG, a parte una, che quella non la possiamo tenere per qualche motivo, ma comunque funzionano uguali. Cominciando dalla Difensora, che è praticamente una delle prime SMG che ci danno, che talmente sta nel primo pass, è abbastanza veloce, fa un bel po' di danni, ne fa 75, amici miei, ha una certa capienza, non ha molto rinculo, bella precisa, ed è molto affidabile, e volendo anche versatile, non ha una penetrazione e corazza molto estrema, visto che è solo leggera, ma comunque torna utile, specialmente contro gli Automaton, che le teste bastano uno o due colpi e vanno giù. Procediamo con la Pestello, questa la troverete nel pass dedicato, diciamo, agli Helldivers per la neve, e la sua particolarità, oltre comunque a fare quasi lo stesso danno dell'altra, ma comunque fa 65, quindi un po' meno, è ad avere una certa capienza. Quest'ultima avrà l'abilità di essere a concussione, cioè che può stordire nemici dopo un paio di colpi, tipo 2-3, bastano, il che li rende più vulnerabili, come nel caso degli Automaton sempre, facciamo finta, un devastatore pesante, lo stordite, praticamente è tutto aperto, potete shottarlo come volete, e vi darà tempo anche di muovere un po' meglio, questo dipende quanti ne stordite, comunque, attenzione alle munizioni, perché comunque se le mangia. Per chi avesse acquistato anche la versione super cittadino del gioco, la Cavaliere non è una brutta opzione, perché è un trinciapollo, letteralmente spara molto veloce, ha una buona capienza, anche se i proiettili quest'ultima pure se li mangia molto in fretta, ma ricaricarla non è un problema, basta trovare un paio di casse e dovreste essere a posto. Comunque, è molto affidabile anche quest'ultima, siccome l'hanno baffata. Non posso non raccomandarvi la balestra, perché è molto utile, molto versatile, ci distrugge delle fabbriche, le piccole orde e tutto. L'unico motivo per cui non la uso spesso è perché se ci si avvicinano ad esempio i Berserker o altri nemici del genere, è un po' più difficile ammazzarli, perché semplicemente rischiamo di ammazzare pure noi stessi, comunque la balestra fa danno pure a noi. Procedendo con le secondarie, la Senator è la prima che raccomando per la sua penetrazione pesante, vi può salvare da un sacco di Hulk, infatti è così che ne ammazzerete un paio. Inoltre, fa un 200 di danno, può servire contro tutti i nemici praticamente, quindi la raccomando altamente per la sua versatilità. Ma se volete potreste anche usare la Verdetto, essendo che ha la penetrazione corazza media, giusto per gradire anche perché c'ha più munizioni, è più veloce della Verdetto, e si ricarica a caricatore, quindi un pochino più veloce, attenzione a non sprecare le munizioni, logicamente, ma comunque anche quest'ultimo è versatile. Se volete fare qualcosa di un pochino più colorito, la CRISPR può anche andare bene, essendo un mini lanciafiamme, quindi attraversa praticamente tutte le corazze, e può essere utile per molti nemici, tipo piccole orde, o anche quelli pesanti, in modo da fargli del danno nel tempo. Se non usate la balestra esplosiva e se avete un'arma abbastanza veloce, la pistola a granate anche sarà molto utile, essendo comunque una granata ad impatto gratuita, distrugge anche quest'ultima comunque le fabbriche, quindi buon divertimento. La leista anche, essendo che ha due modalità di fuoco molto belle, di cui una è molto veloce e fa anche abbastanza danno perché ne fa 125, ma se la carichiamo, a parte che ha una bella area d'esplosione, anche quest'ultima, come più o meno la pistola a granate solo un pochino più piccola, e ha una certa penetrazione anche, molto utile per piccole orde, camminatori e così via. Per le granate ve ne raccomando solo un tipo, e cioè a gas. Perché vi sto raccomandando quella a gas e non tipo quella stordente, la termite, la frammentazione incendiaria e così via? Beh, semplicemente quella a gas distrarà i nemici, li farà attaccare pure tra di loro, se proprio stanno messi malissimo. Gli fa danno nel tempo, comunque pur sempre corrosiva, e ne avremo 4 a disposizione, ma se non la gradite più di tanto, una granata che ritenete più utile o più necessaria, la potete comunque utilizzare. Cominciamo adesso con lo stratagemma arma, che ovviamente sono 3 stratagemi fissi in quest'ultima build, solo l'ultimo vi darò più opzioni, ma lo stratagemma arma deve essere l'HMG o la mitragliatrice pesante. Perché la mitragliatrice pesante? Beh, prima di tutto è una build juggernaut, quindi dobbiamo proprio rimanere del concetto pesante. Secondo è una bella mitragliatrice con due caricatori, dà la capienza di 100, fa un bel po' di danno alla penetrazione, ovviamente corazza pesante, quindi la maggior parte dei nemici li possiamo tirare giù, ovviamente avendo una certa mira, perché ha molto rinculo. Ma se vi sdraiate, vi accovacciate, avete un'armatura che ha la passiva per ridurre il rinculo e tutto il resto, allora non preoccupatevi, perché quest'arma comunque è abbastanza gestibile. Poi comunque, come ho già detto prima, tira giù abbastanza bene i nemici, se mirate anche nei punti deboli anche meglio, e quindi può essere molto versatile se utilizzata bene. Con lo stradagemma zaino, ovviamente sempre a tema juggernaut, zaino scudo antiproiettile. So che molti di voi forse potrebbero non gradirlo, potrebbe non essere molto utilizzato, e vi do anche ragione perché comunque ha una debolezza, e cioè il ragdoll, i missili, gli esplosivi. Infatti ha una salute fissa, lo dovremo richiamare una volta che finirà. Ma se lo sappiamo utilizzare bene e tutto il resto, saremo un ottimo elemento o di protezione o di distrazione per i nostri alleati, in modo da attirare quantomeno i proiettili su di noi. Se poi arriveranno anche i missili, allora entrerà in gioco il prossimo stradagemma che vi sto per elencare. I rilegge generatori di scudi, infatti, sarà il nostro migliore alleato se avremo questo scudo antisommossa. Uno, perché quest'ultimo proteggerà una certa area, due, ci renderà immuni al ragdoll delle esplosioni per un certo periodo di tempo finché dura. Comunque è pur sempre una postazione fissa. Molto utile per noi, per gli alleati, per coprire le ritirate, per coprire una certa zona. E infatti, durante gli assalti alle fabbriche, o anche solo per ricaricarsi, o piazzare torrette, quest'ultima è molto utile. Ve lo raccomando assolutamente. Anche perché deve rimanere sempre in tema, lo Juggernaut, in un certo senso, deve essere un mezzotank. Siccome lo scudo antisommossa non ha una funzione anti-ragdoll per il momento, che si spera, ovviamente, aggiungeranno con i prossimi aggiornamenti, allora, niente, ci tocca utilizzare uno scudo del genere. Passando adesso all'ultimo slot stradagemma, qui possiamo utilizzare più robe. Ovviamente, va in base al vostro stile di gameplay, cosa volete fare nello specifico e altre varianti. E cominciamo con lo sbarramento orbitale mobile. Perché proprio quello mobile non un 380 o un 120, anche se comunque possono andare bene se non ce li avete. Beh, semplicemente quello mobile non rischia di teamkillarci troppo, se lo lanciamo bene, comunque avanzerà piano piano. Adatto per ripulire fabbriche, orde e così via. E lo raccomando, soprattutto, se questa build la volete utilizzare per fare assalti alle fabbriche o cose del genere. Può anche servire, ripeto, come una specie di mezza ritirata, quindi una specie di fuoco di copertura e di soppressione allo stesso tempo, che non fa mai male, onestamente. Come non raccomandarvi, poi in seguito il mitragliamento a tappeto Eagle, come ovviamente supporto Eagle, perché, prima di tutto, ci sono molti utilizzi. È molto versatile, fa un sacco di danni a una penetrazione, corazza pesante, quindi la maggior parte dei nemici possono andare giù facilmente. Adatto per le orde, ma adatto anche per tirare giù fabbriche, varie strutture, automaton, tipo la torre in quel caso. E può servire in, diciamo, la maggior parte delle situazioni. Un'altra strada gemma Eagle che raccomando è la 500 kg, ovviamente. Questa, altrettanto versatile, ma ad alcun tempo molto lenta, quindi da usare con saggezza. Ne avremo solo due utilizzi, ovviamente, ma dobbiamo stare attenti a dove e quando la utilizziamo, perché poi ci sarà la ricarica dell'Eagle e lì dovremo aspettare un po' prima di riutilizzare questo strada gemma. Però comunque la sua funzione sarà o per le fabbriche, o per le orde, quelle un pochino più pesanti, logicamente, o anche solamente per tirare giù qualche struttura speciale, come ad esempio, come detto prima, la torre automaton e così via. L'attacco orbitale di precisione anche può sostituire tipo la 500 kg, visto che ha più o meno la stessa potenza di fuoco, ma non proprio, ovviamente, la stessa area. Torna molto utile, è più veloce, è più versatile, ma attenzione perché è comunque un colpo singolo che ha bisogno in un certo tempo di cooldown e se poi ci sono debuff alle missioni ci vuole ancora più tempo. Usatelo con saggezza, come anche l'Eagle, con la differenza che comunque, ripeto, questo c'ha meno area, quindi un pochino più precisi nel tirarlo. In seguito arriviamo con l'attacco orbitale con gas che distraga i nemici, se non vi bastano ovviamente le granate, ha più area, logicamente, sicuramente fa anche più danno, ha un cooldown molto minore rispetto all'attacco orbitale di precisione, serve per, appunto, fare in modo che i nemici non attacchino principalmente voi, ma si attacchino tra di loro. Forse qualche proiettile volante, qualche missile e così via può capitare, ma non preoccupatevi, più di così non fanno. In seguito, dopo attenti esperimenti e tutto il resto, raccomando anche la sentinella con razzi che fa un sacco di danno, c'è un bel po' di perforazione e anche c'è una bella durata sul campo. Molto utile contro la maggior parte dei nemici, specialmente contro i robot, ma contro gli insetti anche può andar bene, anche se comunque questa build ve la raccomando, soprattutto contro gli automaton, essendo che comunque i termini ti vanno solo di corpo a corpo. Quest'ultima sentinella farà piazza pulita dei nemici, farà un bel fuoco di copertura e se ce la mettete in combo con rilei di scudi e vi mettete anche voi un pochino con lo scudo antisommossa tipo a distrarre i nemici, può anche andar bene e vi ripulirà abbastanza velocemente le orde. Ovviamente non ha una grand'area d'esplosione, diciamo che il suo scopo principale è ammazzare con la perforazione. Ovviamente per potenziare bene le armi strada gemma, dovremmo portare il centro amministrativo patriottico al massimo, in modo da avere anche più velocità di ricarica, più velocità di richiesta e cooldown diminuiti e così via dicendo, tra cui anche la ricarica di munizioni massime. Per gli orbitali altrettanto verrà messo al massimo, soprattutto se vogliamo utilizzare il nostro carissimo sbarramento mobile, in modo da aumentarne comunque il raggio d'esplosione di una certa percentuale all'ultimo livello. E se lo ritenete necessario anche l'hangar va all'ultimo livello, giusto per quel cooldown della ricarica manuale degli eagle, ma anche solo il livello 3 va bene, in modo da aggiungere un utilizzo in più ai vari eagle. Il ponte, beh, ci potenzierà un po' di tutto, è come una specie di jolly, diciamo, ma all'ultimo livello diminuisce il tempo di ricarica degli stratagemmi del 5%, che schifo non fa, onestamente, anche se è abbastanza poco. L'officina di ingegneria anche dovremmo utilizzarla, che sia comunque per torrette o che sia per le armi stratagemmi, specialmente l'ultimo livello, in modo da richiamarle prima. Ed infine il laboratorio di robotica, quantomeno al quarto livello, va messo per far resistere di più le torrette, farle durare di più e tutto il resto, specialmente se vogliamo usare la lancia razzi. Ma comunque anche per i redditi scudi, quest'ultime due sezioni del destroyer vanno potenziate. Allora, per rimanere in tema, ovviamente le armature che vi raccomando saranno rigorosamente solo pesanti, ma anche perché dobbiamo resistere un bel po' i danni, e quindi non ci avrebbe senso avere uno juggernaut con un'armatura leggera, ad esempio, anche se comunque andreste più veloci. Fortificato è la prima passiva che vi raccomando, visto che utilizzeremo questa build puramente contro gli automaton, essendo che ci fornisce un 50% di resistenza ai danni da esplosione, e 30% di rinculo in meno quando saremo accovacciati o sdraiati. Se volete, anche servo assistito, sempre da armatura pesante, aumenterà la gittata del lancio dei nostri carissimi stradagemmi o granate, questo è utile se avete tipo il bombardamento orbitale, e fornisce più 50% di salute agli arti, che non ci fa male, ovviamente, onestamente, in modo da non avere troppi problemi, tipo nel correre, tipo ci rompono una gamba e così via. Anche in bottitura extra, se volete essere proprio più a tema juggernaut, ed essendo che comunque ce n'è solo una, che in effetti vi fa assomigliare a una specie di chunky boy, fornisce un valore più alto di corazza, quindi ancora più corazza, con un'armatura pesante, no, non sarete più pesanti, nel senso che sarete più lenti, ma comunque resisterete un bel po' ai danni. Contate che più corazza avete, più potete anche resistere agli headshot, per fare un esempio. Questa la raccomando per chi vuole essere un pochino più versatile, e non ha delle passive, diciamo, preferite, e vuole resistere generalmente a un po' tutti i danni. Kit da geniere, anche con la solita passiva del 30%, detto in culo in meno, da covacciato o sdraiato, ma anche per delle granate extra, due per essere più precisi, e se utilizziamo quella a gas, allora ne avremo tipo sei. Volendo, potreste anche utilizzare fisico perfetto, che ci aumenta semplicemente la velocità di rotazione delle nostre armi, mentre miriamo, nel caso della mitragliatrice pesante, può anche servire modestamente, perché è abbastanza lenta a ruotare, ma neanche così tanto, quindi se proprio ne sentite il bisogno, utilizzatele. Comunque ci fornisce anche il 50% di danno corpo a corpo, che può anche servire, se tipo picchiate gli automaton, non fa schifo. Detto ciò, amici miei, spero che la build, il setup vi sia piaciuto, il concetto di questo setup vi sia piaciuto. Vi raccomando di seguire sempre il canale, soprattutto se volete vedere anche il gameplay, che ne rilascerò un pochino più avanti, vi raccomando di iscrivervi al canale, mettere like, e ovviamente di seguirmi sugli altri social, e condividere il video in modo da farci crescere, perché ragazzi, dobbiamo arrivare ai mille iscritti, e questo può accadere solo grazie a voi, e grazie al vostro supporto, quindi vi raccomando. E detto ciò, amici miei, la democrazia possa proteggervi, e possa anche illuminarvi. Spero che questo setup, ripeto, vi sia piaciuto, nel caso ditemi qua sotto nei commenti, come l'avreste fatto, come lo vorreste, o se avete altre proposte per altri video, che io leggo i commenti, quindi non abbiate timore, e noi ci possiamo vedere, o alla prossima build, o in una delle prossime live, o comunque in un altro gioco. Salve a tutti, e che la democrazia vi accompagni sempre. Grazie a tutti.